Sotto al video dei Bushplane, bellissimo video, in cui vi avevo parlato dei due tipi di carrello possibili per un aereo, mi avete chiesto appunto lì sotto nei commenti di approfondire questo argomento. E allora, chi sono io per dire di no? Eccoci qua. Parliamo di carrelli. Vi prometto sarà interessante, perché un video sulle differenze tra il carrello biciclo e il carrello triciclo sarebbe noioso. E quindi oggi parleremo anche della storia di questi carrelli e di qualche curiosità su uno e sull'altro e di aerei particolari. Cominciamo, cominciamo con un ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, che inizia negando un po' il titolo, nel senso che non esistono due tipi di carrelli, ma ne esistono tre in realtà. Esiste il carrello biciclo, esiste il carrello triciclo ed esiste il carrello in tandem. Molto raro in realtà, talmente raro che avete capito, non ne parleremo in questo video. Praticamente è usato solo in aerei militari, come l'U2, su cui ho fatto un altro bellissimo video, e il B-52, e negli alianti moderni. Ma torniamo ai nostri due del video. Il carrello biciclo è considerato il carrello classico degli aerei, perché nasce storicamente prima. E fino alla fine della guerra era praticamente l'unico carrello esistente per gli aerei. Il triciclo non esisteva ancora. Perché? Perché è nato prima, se come vedremo è più scomodo? Eh, perché è molto più semplice, essenzialmente. È molto più semplice costruttivamente, quindi il carrello triciclo non l'avevano ancora inventato. Anche guardandolo, ci sono due ruote e non tre. Ok, c'è un ruotino di coda, ma quello là in realtà non serve nemmeno. La coda si può trascinare per terra, magari con un pattino di legno, se siamo durante la Prima Guerra Mondiale, o con qualcosa. Insomma, questo ad esempio ha un ruotino, è un ruotino insignificante rispetto alla dimensione del carrello. Però è ammortizzato, fa il suo, insomma, questo è un aereo moderno e quindi questo ruotino gli permette di non strascicarsi la coda. Quindi sono due ruote, quelle anteriori, e appunto è da questo che deriva poi il nome. Le gambe del carrello si possono far spesse quanto si vuole. Non è obbligatorio che siano ammortizzate. Possono attaccarsi direttamente alla fusoliera, chi se ne frega. E possono essere fatte di materiali anche super semplici, come il legno proprio. Questo ad esempio è tutto d'acciaio, è anche ammortizzato sì, ma vedete è un bloccone, un pezzone unico, una balestra gigantesca. E poi hanno messo queste ruote e busche incredibili che galleggiano sulla sabbia, su, che figata. Vi ricordate di come in parecchi video, e soprattutto quello sulle piste, vi ho detto che sono nati prima gli aerei degli aeroporti? Nel senso che all'inizio gli aerei attravano un po' dove capitava, perché mica esisteva gli aeroporti. Ecco appunto, fino alla seconda guerra mondiale si partiva da campi, prati e questo tipo di carrello era perfetto, perché, come ho detto prima, si può fare grosso e robusto quanto vuoi. E soprattutto perché quando l'aereo è a terra, così anche per tutti i movimenti di terra, il muso e quindi anche l'elica sia molto in alto e quindi non prenda dentro cespugli, arbusti, robe che ci possono essere su un campo non preparato. Inoltre, due ruote invece che tre offrono meno resistenza, sia a terra, mentre stai rullando proprio sul prato con l'erba alta, sia per aria, come resistenza all'aria, e avere meno resistenza male non fa. E a proposito di resistenza, due ruote sono meglio di tre, ma nessuna ruota è meglio in ogni caso. E quindi già dall'inizio della seconda guerra mondiale, quando si comincia a puntare la velocità per gli aerei, e si comincia a sviluppare modelli sempre più veloci, perché la velocità era un fattore che poteva far vincere o perdere la guerra, letteralmente, e tutti i costruttori, che facevano carrelli bicicli perché erano gli unici esistenti, decisero di puntare sul carrello biciclo retrattile. Poi sui modi di tirare su e giù il carrello, si potrebbe stare a parlare all'infinito, magari ci faremo un giorno un video dedicato. Se ne sono inventate di tutte, tra sistemi pneumatici, idraulici. Il più bello di tutti resta probabilmente il carrello dell'F4F, che andava tirato su a manovella, ma non girando una volta, due volte la manovella, ma si doveva fare 32 giri per tirare su e giù il carrello. Il pilota doveva togliere la mano sinistra dal motore per prendere la barra con la sinistra, e con la destra andare a girare sta manovella 32 volte. Vabbè, cose. Comunque, il carrello biciclo aveva i suoi svantaggi, c'è un motivo per cui al giorno d'oggi non si usa praticamente più. Uno dei tanti svantaggi deriva proprio dal fatto di avere il muso alto, l'elica alta, abbiamo detto, così non falciarbusti. Però il muso alto per un aereo vuol dire che mentre sei a terra non ci vedi una mazza di dove stai andando, banalmente. Sia se l'aereo c'è un muso lungo come un caccia, sia se l'aereo c'è un muso anche corto ma largo, perché magari c'è un motore radiale nel muso, come lo Stearman. E a proposito proprio di caccia, ci sono un paio di aneddoti divertenti. Perché se durante il decollo non vedi davanti a te, non vedi dove stai andando, una delle prime cose da fare è appena hai quel minimo di velocità che ti permette di alzare la coda, e appunto alzare la coda, così almeno continui a rullare per terra ma rulli dritto. E almeno ci vedi e puoi fare quelle cose non proprio superflui, tipo rimanere dritto sulla pista e non andare a campi. E i problemi però ci sono stati, perché finché non hai la velocità sufficiente per alzare la coda, non vedi dove stai andando e quindi ci sono diversi aerei che si sono presi dentro, sia in decollo, sia uno in decollo e uno in atterraggio. Non benissimo, insomma, ma anche ai giorni moderni c'è un reel che gira su Instagram, me lo inviate sempre, di proprio un tizio che si sta facendo i fatti suoi in mezzo a una pista, non so perché, ma probabilmente gli ha piantato motore durante il decollo, ha avuto qualche problema, è lì in mezzo e gli arriva un aereo con il carrello biciclo da dietro che non lo vede e gli va dritto contro. L'altro aneddoto curioso è che non solo durante il decollo e l'atterraggio non ci vedi niente, rieschi di prendere altri aerei, ma anche durante il rullaggio, durante il taxi, proprio per arrivare dall'hangar, dal parcheggio fino alla pista, non ci vedevano niente. E quindi capitava spesso che una seconda persona si sedesse magari sull'ala per comunicare a voce al pilota dove andare, cercando di urlare sopra il casino di un motore radiale magari, quindi a gesti comunque si capivano e serviva un navigatore, diciamo, seduto sull'ala, che poi scendeva prima di decollare. E comunque questi sono tutti i problemi secondari, non abbiamo ancora parlato del problema principale, cioè la manovrabilità degli aerei che hanno questo tipo di carrello a terra. Sì, perché il baricentro dell'aereo è più indietro rispetto alle due ruote del carrello e per una serie di fenomeni fisici noiosi le cose si possono mettere male in poco tempo se il pilota non è addestrato a prevedere un po' i comportamenti dell'aereo. Per farvi capire, durante la corsa di decollo il ruotino dietro viene bloccato, o addirittura per alcuni aerei non c'è, abbiamo detto. Quindi esiste proprio un range di velocità per le quali non puoi sterzare, essenzialmente. Quindi c'è proprio tutto un range di velocità in cui il ruotino per sterzare a terra non è più efficace, ma non hai abbastanza velocità all'aria per avere autorità sulla deriva, sul timone dell'aereo, e quindi anche quello è inutile per sterzare. Toccare i freni in decollo evitiamo. Quindi se per una folata diventa il traverso o per qualsiasi motivo l'aereo comincia a girare, per forza centrifuga in pratica tende a girare una curva sempre più stretta e rischiando di rambaltarsi sul lato in pratica. Questo comportamento ha proprio un nome, in inglese si chiama ground loop, ed è l'incubo di molti piloti anche perché non accade solo in decollo, ma può accadere anche in atterraggio, se si rimbalza o se si frenna troppo bruscamente o in maniera simmetrica. Insomma ci sono una marea di cose che possono andare storte, anche perché quando cappotti un aereo biciclo c'è proprio l'elica lì che quindi batte per terra e quindi sfasci l'elica, sfasci il motore al quale l'elica è attaccata, sfasci probabilmente tutto l'aereo o comunque gratti male le ali e rischi di farti tanto tanto male. Ed ecco perché nel 1929 nasce il carrello triciclo, che non prende subito piede, si diffonde solo quando cominciano a prendere piede le piste di decollo e atterraggio, proprio per i problemi di robustezza che abbiamo citato prima. Per dare due nomi di due aerei della fine della guerra che già lo montavano, abbiamo, non so, il P-38 per gli americani e il 262 per i tedeschi. E penso che sia giunto il momento, oltre che di mettere pollice in suo al video, di contraddire quello che abbiamo appena detto, nel senso che in genere il carrello triciclo è meno resistente del carrello biciclo, però può sopportare più peso perché ne puoi mettere di più, ne puoi mettere quanti ne vuoi. Infatti a un carrello biciclo non puoi mettere più ruote, quindi il peso dell'aereo in ogni caso è concentrato su tre punti, le due ruote davanti e qualsiasi cosa abbia dietro. E su un carrello triciclo invece, sul cosiddetto principale, cioè le due ruote allineate, ruote, ne puoi aggiungere quante ne vuoi. Guardate un 747 quante ruote ha, guardate il povero Mria, l'Antonov AN-225, non solo hanno due ruote ma possono avere anche più carrelli proprio lì indietro sulle ali. E in più quello davanti, anche lì, puoi giocartela in diverse maniere, insomma, è più scalabile. E distribuire il peso vi sembrerà una banalità, una cosa poco utile, ma dovete pensare che gli aerei pesano. Esistono piste dove se ci atterrasse un 747 sprofonderebbe letteralmente per quanto sia fatta d'asfalto. Quindi è molto importante capire anche come distribuisci il tanto peso che hai quando parli di mezzi da centinaia di tonnellate. Quindi visibilità perfetta mentre sei a terra. Tiene più carico, manovrabilità perfetta per tutte le operazioni di terra, il carrello triciclo non ha difetti. E invece no. C'è anche lui un difettino perché può ribaltarsi all'indietro, invece che in avanti, come il biciclo. Il baricentro in questo tipo di aereo è davanti al carrello principale, ma se si carica l'aereo male, e per male intendo tanto peso in coda, può attendere a ribaltarsi. E questi errori succedono. Sono rari, ma i danni sono parecchi perché si parla di aerei cargo e quindi costosetti. Inoltre c'è un altro problema, sempre relativo a ribaltarsi all'indietro. Esiste il cosiddetto tail strike. Cioè il grattare la coda, essenzialmente. Che può accadere in decollo se il pilota tira troppo presto, tira troppo. O sempre se il cargo o i passaggeri dell'aereo caricano troppo peso nella parte posteriore. Ma è ancora più comune in atterraggio. Atterraggio che anche per i carrelli biciclo ha un sacco di problemi se arrivi troppo cabrato, eh. Perché se battono con la coda anche loro bene non si fanno, per quanto ci sia un ruotino. Però non sono nulli, diciamo, i casi in cui arriva uno un po' cabrato col Cessna e gratta la coda in pista. Non è comunissimo, a meno di sfighe particolari, negli aerei di linea, il tail strike. Invece era comunissimo nel Concorde. Il povero Concorde, fatto per volare supersonico, doveva atterrare e decollare con angoli di incidenza altissimi. Perché quella la delta non era fatta per le basse velocità. E quindi c'aveva proprio un ruotino retrattile nella coda. Ve l'ho mostrato quando vi ho portati a vedere il Concorde. Recuperatevi il video se ve lo siete perso. C'aveva proprio questo ruotino perché tanto sapevano che la coda la grattava. E quindi per evitare di grattare il metallo, almeno c'è il ruotino, gli faceva da carrello aggiuntivo. Comunque capite che questo del tail strike è un problema minore. Se è confrontato a tutti quelli che vi ho detto prima del carrello biciclo, poveraccio. E quindi dato che al giorno d'oggi, a parte i famosi bush plane, nei campi non preparati, non si atterra e non si dacolla più. Meno di problemi al motore. Il carrello triciclo è quello più diffuso e quello praticamente universale. Più diffuso sì, in realtà. Ma se andate a una qualche manifestazione, dove di solito contano gli eri belli, gli eri storici. E può capitare che in occasioni del genere, tra Piz, Texan, Bush Plains e chi più ne metta. Magari in questo caso siano in minoranza i tiri cicli. Pollice in su, controllate di essere iscritti a questo canale perché escono video fighissimi in cui voliamo, in cui vi racconto degli eri storici o della forma dei carrelli. Quindi iscrivetevi o controllate di essere iscritti. Pollice in su, ciao a tutti.